La Corte di Cassazione dà ragione a Strada dei Parchi, la concessionaria delle A24 e A25 e annulla il sequestro preventivo dei beni. 21 milioni e 800 mila euro tra somme aziendali e dei dirigenti che la Procura di Teramo aveva sequestrato per il presunto reato di abuso d'ufficio. Accogliamo con grande soddisfazione la decisione della Cassazione, fanno sapere dal gruppo Toto, titolare di Strada dei Parchi. Il Tribunale del Riesame aveva già parzialmente dissequestrato i beni, da qui il ricorso in Cassazione della Procura, ma i giudici della Corte Suprema quest'oggi hanno deciso la restituzione totale di quanto confiscato dal GIP il 27 ottobre scorso. Questo perché la Cassazione ha giudicato legittima l'assegnazione dei lavori alla Toto Costruzioni. Per legge le concessionarie autostradali possono affidare lavori a imprese collegate nella misura massima del 60% del valore della concessione, ma secondo gli investigatori la percentuale era stata ben superata. Rimane ora il procedimento penale riguardo il degrado strutturale delle autostrade e la mancata manutenzione. Il gruppo Toto però ribadisce l'infondatezza della presunta pericolosità delle infrastrutture.